Firma appena annunciata al Milan? Vi farà cadere le braccia per quanto è stato annunciato. Ma prima di parlarvene, voglio che vi piaccia per avere tutte le ultime notizie dai rossoneri. Sabato scorso il Milan ha battuto il Genoa per 1-0 nella sua ottava partita di campionato. In trasferta, i rossoneri sono riusciti a vincere solo negli ultimi minuti della partita. Al quarantaduesimo minuto, l'americano Pulisic ha segnato il gol della vittoria dopo un buon passaggio del connazionale Yunus Musa. Il fatto curioso della partita è che il centravanti giro ha fatto da portiere nei minuti finali. Dopo l'espulsione di Meignan nei minuti finali del secondo tempo, il francese ha cambiato maglia e ha assunto il nuovo ruolo. Con la vittoria, il Milan si è portato in testa alla classifica della Serie A, superando l'Inter, che sabato ha pareggiato con il Bologna. La squadra di Stefano Pioli ha ora 21 punti, mentre i Nerazzurri, in seconda posizione, ne hanno 19. Se non avete ancora lasciato il vostro like, fatelo ora per continuare a ricevere le notizie sui rossoneri in prima persona. Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante e uno dei nomi possibili è quello di un attaccante nigeriano che viene paragonato a Victor Osiman del Napoli. Come riporta calciomercato.com, Gift Orban è uno dei tanti attaccanti che il Milan potrebbe ingaggiare il prossimo anno. È noto che i rossoneri vorrebbero ingaggiare un nuovo attaccante al termine di questa stagione che possa sostituire Olivier Giraud. Insieme a Medi Taremi del Porto e Jonathan David del Lille, Orban sta attirando l'attenzione per le sue prestazioni con il Gent, squadra belga. Ha segnato sei gol in 14 partite nella massima Serie Belga e nella Conference di Europa League, il che ha portato molti a paragonarlo a Osiman, anche gli attaccanti nigeriano. Nato nel 2002, Orban ha ancora molto tempo per crescere e molte squadre vogliono ingaggiarlo. Ora tocca a voi, quindi, che il Milan acquisti altri giocatori, fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un like e iscrivetevi al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan.